Avrebbe favorito l'assunzione della direttrice della casa di riposo facendole avere in anticipo le domande dell'esame e truccato il bando per l'affidamento della gestione dell'asilo nido del paese. Queste le accuse rivolte dalla procura di Pavia al sindaco di Zavattarello, Simone Tiglio, che lunedì mattina è stato posto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Voghera che continua ad indagare sulla vicenda. Le persone indagate a vario titolo sono in tutto quattro, oltre al primo cittadino, accusato di turbata libertà del procedimento, di scelta del contraente, risultano indagati anche due funzionari pubblici e un imprenditore, con cui sarebbe stata tagliata su misura la gara d'appalto per l'asilo nido. Per loro l'accusa è di turbativa d'asta, rivelazione e utilizzo del segreto d'ufficio. In pratica, secondo quanto riferito dagli inquirenti, sindaco e imprenditore, nel caso dell'asilo, avrebbero concordato i dettagli di tutte le fasi ad evidenza pubblica previste per la gara, tra cui la bozza del capitolato, con le modifiche suggerite dallo stesso imprenditore. E sempre prima della gara, secondo i finanzieri, i due avrebbero fatto diversi sopralluoghi assieme nell'asilo per definire il materiale che il comune avrebbe dovuto acquistare per avviare e far funzionare questa struttura. Ma nel mirino dei magistrati è finita anche la procedura di selezione del direttore della residenza sanitaria assistenziale del paese. Secondo gli inquirenti, in questo caso, sarebbe stata agevolata una candidata gradita, per così dire, che era stata aiutata nella preparazione delle prove scritte e orali, anticipandole in pratica le domande che la commissione esaminatrice le avrebbe fatto il giorno dell'esame. Per questa vicenda specifica sono stati indagati, oltre al sindaco Tiglio, anche il presidente della commissione e un altro dipendente pubblico. Gli accertamenti della Guardia di Finanza proseguono anche all'interno del municipio di Zavattarello con l'acquisizione di numerosi documenti.